Vi aspetto con una nuova bellissima puntata di Dalla parte degli animali. Trinacria, Camilla e Nico, questi tre meravigliosi cuccioli, sono solo alcuni dei protagonisti che vi faremo conoscere e che cercano casa. Poi scopriremo un lato inedito di Iva Zanicchi, quello nella sua vita familiare con due meravigliosi cagnoloni. E poi ci sarà Mia, la lupologa, una donna meravigliosa che ha dedicato la sua vita a studiare il lupo. Insomma, tante sorprese, emozioni e tanto tanto amore. Dalla parte degli animali, domenica alle 10.50 su Rete4.